La situazione è critica perché le violenze aumentano, che non sono soltanto violenze di tipo fisico, ma in grande parte violenze anche di tipo verbale, tenendo conto che in genere medici, infermieri, operatori sanitari sono quelle persone che ti aiutano a salvare la vita, a cui si guarda in senso di speranza. Negli ultimi anni in Veneto gli episodi segnalati di violenza contro i sanitari sono stati oltre 3.000, ma molte aggressioni sfuggono alle segnalazioni ufficiali. Il punto soccorso è la punta di un iceberg, noi dobbiamo pensare per esempio alla guardia medica, a tutti quei medici che lavorano di notte nel prefestivo, nel festivo, in cui ci sono stati negli anni, e ce ne siamo dimenticati troppo presto, dandole una medaglia al valore civile, alla memoria, dottoresse violentate ed uccise durante il turno di guardia sul territorio. La maggior parte delle aggressioni riguarda medici donna. Le aggressioni verbali sono state numerose, le aggressioni fisiche sono state minori di sicuro, ma ho imparato da sola, prima che qualcuno me lo insegnasse, ad utilizzare delle tecniche di de-escalation, di assertività, per ridurre il livello di scontro. Presentarsi a un sanitario in modo aggressivo induce il sanitario a lavorare molto meno bene, bene soprattutto ad avere meno attenzione al paziente, per cui di sicuro la sicurezza del sanitario garantisce una maggior cura al paziente.